Come è cambiato il terrorismo in Italia? Esiste ancora o è definitivamente scomparso? Per Giuseppe Tiani, segretario nazionale del SIAP, sindacato di Polizia, autore di diversi studi e ricerche sul fenomeno, il terrorismo esiste ancora anche se ha cambiato pelle. Quando è nato, parliamo degli inizi degli anni 70, c'era un contesto sociale, un movimento studentesco in fermento, così come il mondo operaio. Certo, oggi la globalizzazione ha portato un mutamento sociale e quindi i fenomeni sono decontestualizzati rispetto alla loro origine. Le nuove Brigate Rosse, dal nostro punto di vista, sono fuori contesto storico completamente, ma il processo che il Paese non ha avviato è quello della storicizzazione del terrorismo. In Italia non è stato ancora storicizzato questo periodo per cui il dibattito è ancora vivo e per certi vesti resta misterioso. Giuseppe Tiani ha tenuto la sua conferenza nell'auditorium dell'Università Isernia ed è anche intervenuto sulla polemica nata da un'interrogazione parlamentare in cui si sostiene che l'organico della questura di Isernia è sovradimensionato rispetto a quello della questura di Rimini. Nella polemica per la questione di Isernia e Rimini, devo usare un termine forte, chi apre polemiche di questo tipo è un idiota, perché il Paese non ha bisogno di divisioni campaneristiche, la sicurezza è un bene comune che compete a tutte le province, i paragoni sono impropri perché ogni territorio ha le sue esigenze e tutti i cittadini devono essere tutelati. Le differenze dei numeri rispetto ai territori sono legate a processi estremamente complessi, non perché un territorio viene favorito rispetto ad altri, ma perché ci sono dinamiche legate alla sicurezza pubblica che in alcuni momenti possono favorire un territorio rispetto ad un altro.